Bene, siamo partiti i contratti in fase di possesso, abbiamo fatto bene in fase difensiva perché abbiamo concesso al Napoli quasi niente, non è poco perché qui a Napoli quelli che hanno fatto risultato hanno avuto fortuna, hanno subito 5-6 palle gol minimo. Da un punto di vista difensivo bene dovevamo stare leggermente un pochino più alti ma non ce l'abbiamo fatta anche per la forza del Napoli, dove mi sono arrabbiato abbiamo sbagliato tanto, avevamo preparato bene in fase di possesso tecnicamente e poi abbiamo fatto anche il patatrac e abbiamo regalato il gol loro. Per il primo e il secondo tempo ci siamo parlati e si è fatto una grande gara, un grande secondo tempo da squadra vera, cuore toro che non molla, siamo andati due volte in svantaggio, anche nel momento migliore siamo andati a prenderli alti, ci hanno fatto il 2-1 con un campione come Amzic ma non abbiamo mollato e questo è lo spirito che mi fa ben sperare per il futuro. Grazie a tutti.